dai adesso introduci bello questo cellulare che allora stiamo per guardare gli stray kids siamo tutte fatte abbiamo mangiato come delle porche e niente adesso sarà parlerà non abbiamo voglia di alzarci quindi facciamo questo video così e sarà parlerà come sempre quindi l'intrattere allora michel sei viva lì sotto che ti facciamo in realtà michela che sta morendo c'è un sacco gli stray kids quindi sei pronta l'avevano tutti visto perché te io non ho visto anche chi è? dai c'era per favore chi va e morta lì? ma è bello? non me lo ricordo la canzone è strana sì no è bello il video è bellissimo quasi è bello chi è? a minorenne però no felix mi metti ansia veramente è troppo carino perché questa voce così piena che carine però questi capelli non è ragazzi non puoi avere quella faccia e quella voce come io ho un gucchio cioè capite che è un tramo ma che buono biongiare mamma mia mi spero che è psicologico questo smettila l'acqua non può mancare mai adesso devi invitare anche questo video troppe video guarda mi un chiela che è morta mi un chiela eeeh 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 eeeh